Guardate bene queste immagini, rimarranno nella storia trevigiana come primo segno del cambiamento in fondazione Cassamarca. Per la prima volta infatti i consigli di amministrazione e di indirizzo sono riuniti assieme davanti alla stampa, ma soprattutto per la prima volta manca il presidente Dino De Poli. E sarebbe già una notizia se in realtà la vera notizia di oggi da Caspineda non fosse il ricalcolo di bilancio con i conti nuovamente tirati che hanno dato un inesorabile rosso di oltre 53 milioni di euro. Certo, a fronte di un patrimonio complessivo e soprattutto reale di oltre 308 milioni, ma comunque segno di una febbre alta per le storiche casse dell'ex Cassaforte dei Trevigiani. Ecco il perché i due consigli si sono presentati assieme davanti alla stampa con l'obiettivo di spiegare bene il risultato del ricalcolo di bilancio. Intanto la causa scatenante di tutto è stata la caduta verticale del valore delle azioni Unicredit, acquistate nel 2008 210 euro ed ora quotate 17 euro. Un crollo preventivato e coperto da un fondo di accantonamento di 200 milioni di euro. Fin qui tutto bene dunque, se non fosse che a seguito dei titoli si è dovuto ricalcolare anche il valore degli immobili, dalla Piani al Teatro da Ponte, solo per fare degli esempi. Alcuni valori sono inferiori a quelli che avevamo segnati in carico e allora abbiamo dovuto provvedere a valutare. Niente fondo di accantonamento per gli immobili ed ecco il profondo rosso imprevisto. E allora cosa fare? Intanto garantire fino a fine di questo mandato, ovvero dicembre, gli impegni presi. Poi agire su tre strade. Affittare ciò che si dà in uso gratuito, chiedere sostegno alle altre istituzioni per le iniziative a beneficio della collettività e infine vendere tutto ciò che non è strategico. Un esempio? Teatro da Ponte Vittorio Veneto. Valore reale a bilancio 11 milioni di euro in uso gratuito al Comune. Potrebbe essere anche un'accessione in modo che dia anche opportunità sia al Comune di averlo in proprietà e sia a fondazione di non avere più i costi.